Vicepresidente, quest'anno l'associazione di categoria Ascom ha deciso di puntare tantissimo sull'enogastronomia, perché? Il cuore della nostra associazione è l'enogastronomia, nel senso che la maggior parte dei nostri associati è nel terziario e rappresenta la ristorazione, la ristorazione del biellese in tutte le sue fasi. Siamo inventati più cose, diciamo un insieme, da un'vecchia iniziativa di Ascom, attiva nel 2005-2008, che era l'autunno-enogastronomico, abbiamo cercato di portarla nella versione più moderna, possa essere qualcosa che possa durare nel tempo. 8 itinerari, 16 settimane, 32 degustazioni e stanno partecipando 64 dei nostri associati, 64 ristoranti. È un'autunno-enogastronomico che avanza, infatti dedicata all'autunno è proprio la comunicazione dedicata all'apertura di questo nuovo sito, che è Food & Wine di Ella, che vuole rappresentare l'enogastronomia e la produzione enogastronomica nel biellese a chi vuole conoscerlo e apprezzarlo. In questa fase abbiamo presentato questo volantino, dove è illustrato appunto l'iniziativa e come avviene l'adesione a questa iniziativa. Si tratta di bottiglie, un bottiglie cartacee, dove viene rappresentato il percorso e quindi questi 8 itinerari che rappresentano le nostre 8 perle nel biellese, dove turisti da fuori possono abbinare degustazioni alimentari con percorsi culturali. 16 settimane, perché l'autunno è composto da queste 16 settimane e abbiamo avuto l'adesione di questi ristoranti che in queste 16 settimane fanno dei menu dedicati durante la settimana. In più abbiamo dato un menu comune a tutti, che è la bottiglia personalizzata, è una bottiglia cartacea dove viene esposto per ognuno il proprio menu e il proprio costo, è una formazione di promozione personalizzata, ma sotto un cappello comune che è la bottiglia di Ascom. Quindi un autunno e anche possiamo dire un inverno a questo punto di gusto. Speriamo di sì, speriamo di dare con questa iniziativa la possibilità che i nostri ristoratori possano lavorare e l'attività è quella che Food & Wine Biella possa essere la vetrina di questi ristoratori, perché oltre ai ristoranti verranno inseriti i bar, i tour e probabilmente i produttori delle nostre eccellenze. Venite ad assaporare il gusto del nostro territorio.